Musica 108 giorni terribili, però finalmente oggi è una giornata di festa. Oggi l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di agganciare. Oggi è il nostro Natale. Ci siamo salutati, comunque abbiamo manifestato la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, perché quello che hanno passato in questi 108 giorni sicuramente ci sarà da scrivere qualche libro. Ritengo che hanno bisogno di tempo per risanare queste ferite, perché il comportamento e il trattamento che hanno subito, secondo le loro dichiarazioni, è molto molto difficile. Quindi ritengo che hanno bisogno di serenità e di tanta assistenza e monitoraggio per riprendere questo loro cammino. Oggi è una giornata di rinascita, perché avevamo i cuori spenti, hanno iniziato a battere di nuovo, abbiamo aperto gli occhi, tutto. C'è grande emozione, devo dire che anche io sono personalmente emozionato, non me l'aspettavo, finalmente finisce un incubo. Il settore della pesca è la principale gamba economica di Mazzara. Ci sono 600 lavoratori che operano direttamente sui pescherecci d'altura, migliaia di persone che lavorano nell'indotto. Il nostro governo e l'Unione Europea ci dovrà dire se nei prossimi anni questa attività economica potrà continuare a svilupparsi o se invece dobbiamo tirare il reno in barca. Questa è la vera sfida che si apre da oggi. Grazie.